E se vogliono uscire di scatola e altro... Prendi le 4 rottie? No, no. Prendi mai le 4 rottie. Dai! Che non siede! Ok! Si sta stotta, ma! Come sta? Si sta stotta! No, si sta stotta! No, si sta stotta! Si sta stotta! Si sta stotta! Questo è lungo, eh! E' una varella! Si! E' una varella! E' una varella! E' una varella! Si! E' una varella! E' una varella! Si! E' una varelle! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!